Siamo nei pressi di Case Baratta, Case Martinelli, un versante di Bergotto, dove grazie ai lavori della Regione, del Genio Civile, siamo riusciti a intervenire una prima volta come Comune per togliere tutta l'acqua vicino alle case di Case Baratta e adesso su questo versante. Sono lavori di prevenzione, sono lavori particolarmente utili che andrebbero fatti anche in modo più consistente, però va anche detto che nel nostro paese dove non si fa nulla per la prevenzione è un piacere lavorare con dei giovani tecnici che invece danno molta importanza alla prevenzione e riescono a fare dei lavori veramente utili con il coinvolgimento anche dei cittadini. Siamo riusciti a asfaltare un tratto consistente della strada di Case Martinelli e Case Baratta. Rimane ancora un breve tratto che speriamo di riuscire a fare qualche cosa perché, come dico sempre, le nostre coi fichi secchi è difficile fare, però hanno soddisfazione essere riusciti a fare queste cose, essere stati aiutati da tanti enti, da tante persone, da tanti tecnici che seppur giovani amano il nostro territorio.